Bene carissimi amici, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento di analisi e estrazione e ben ritrovati sul mio canale. Nell'estrazione di questa sera notate l'88 sulla ruota di Bari, anche in quinta posizione, che io vi ho strarregalato e ve l'ho ripetuto sempre in tutte le analisi. Vi ho detto 88, 86, Bari, ruota secca, quarta e quinta posizione, quindi spero che alcuni di voi abbiano vinto questa ambata. Mi raccomando ancora l'86 perché sono usciti il più due, quindi è uscito l'88 e l'84, quindi adesso arriva l'86, state attenti. Quindi continuiamo l'86, Bari, quarta e quinta posizione e anche il 56, sempre quarta e quinta posizione. Queste sono ambate regalate che avete vinto soltanto seguendo l'analisi e estrazioni, quindi molto bene. Attenzione perché su Bari sortisce la favolosa spia 84, l'84 dice sì al 90, Bari e Napoli. E noi abbiamo col metodo cadenza zero proprio la coppia Bari-Cagliari-Napoli-Palermo in modalità vincita venuta. Per chi non ha preso ancora i quattro ambi, mi può contattare in privato via WhatsApp per avere gli ambi secchi. Mi raccomando perché la condizione di Bari-Cagliari è molto, molto forte. Ve la faccio rivedere. Abbiamo un 90 esplosivo anche perché è uscita anche una distanza a due su Bari 24-26, il 5 a Cagliari che lo chiama. Quindi la cadenza otto isotopa, quindi attenzione perché qui andremo a vincere alla grande. Napoli-Palermo anche una bella coppia perché Palermo porta l'89 che annuncia il 90. Quindi molta attenzione e sono due coppie che abbiamo in gioco alla grandissima. Questo mese il 90 segreto ha completamente sbancato, lo stiamo continuando perché Firenze, Roma e Cagliari sono ancora forti. Guardate questo 5 isotopa tra le ruote di Cagliari e Roma, però lo abbiamo stravinto alla grande. Ambo sotto controllo anche stravinto con l'ambo secco, quindi due condizioni che vi consiglio di prendere ogni mese. La mia previsione è l'otto gratis, è andata di nuovo a colpire con l'ambata secca 32 nazionale a colpo. La scorsa estrazione avevamo vinto con il 58 nazionale a colpo. Abbiamo sfiorato l'ambo secco perché avevamo il 58-83, è uscito il 58-82. A colpo di nuovo il 32 nazionale. Cos'è questa previsione cari amici? È una previsione pazzesca. Vi consiglio di prendere le modalità vincite venute perché ogni mese, a parte tutte le ambate che vinciamo a colpo, portiamo a casa minimo un ambo al mese, quindi attenzione. Come è successo, vi riporto all'estrazione del 3 settembre quando abbiamo vinto il 53-39 sulla ruota nazionale. Cosa possiamo dire ancora? Vediamo un po'. Abbiamo una doppia figura a 9 in diagonale su Venezia nazionale, doppio 18, molto bello. E' questo triangolo di numeretti con il 4 isotopo, il 45 sul nazionale. Qui aspettiamoci un altro 90 a bomba, quindi un 90 che entro fine mese mi aspetto un'altra bella frequenza, quindi molta attenzione. Vediamo, tra l'altro, Venezia porta la distanza 2 isotopo, proprio come Bari. Quindi notate che in diagonale 24 e 2 fa 26 e il 26 torna a isotopo sulla ruota di Bari. Quindi questa è una bella formazione tra le ruote di Bari-Venezia. Un 45 che è ripetuto tra le ruote di Torino nazionale, quindi questo 45 sappiamo che annuncia il 90 perché messo al doppio fa 90. E abbiamo anche l'89 su Torino, quindi anche qui, alle ruote inferiori, c'è una bella situazione. Tabella numeretti che ha confermato la convergenza con il 5, l'ha strapagato un sacco di volte. A Caglia riesce di nuovo il 5, guardate. È stata una convergenza, quando vi porto la convergenza con la tabella numeretti, non è uscito l'ambo ancora questo mese, vediamo fino a fine mese cosa succede. Ma quando vi porto la convergenza si va sempre e costantemente a vincere. Vediamo ancora qualcos'altro, cosa possiamo dire. Andiamo un po'. Questi sono i segnali un po' più eclatanti. Milano porta la figura a 9, 81, guardate. Il 20 su Napoli porta anche il 90, quindi attenzione. Quindi rimane tutto confermato. Le previsioni che abbiamo, abbiamo le due condizioni del metro cadenza 0 molto potenti, quindi portiamo tutto avanti con costanza. Come vedete qua le estrazionali parlano, ci hanno dei segnali ben chiari. Questo 84 sottito a Bari, state a vedere come porterà il 90. Bari-Napoli lo porterà alla grandissima. Lo porterà al grandissima. E toccheremo con mano come questa spia è qualcosa di incredibile. incredibile, la potete testare anche all'indietro, è qualcosa di impressionante. Vediamo cosa possiamo dire ancora. Chi gioca chiaramente i miei metodi, il metodo cadenza 7, è da portare avanti, le condizioni che chiaramente ci sono. Qui in questa estrazione non ci sono. Qui c'era per esempio questa 17,57 Venezia, si moltiplicano le decine, quindi era 1 per 5, 5, e quindi porta ancora il 5 Bari-Venezia. Quindi ormai lo sapete utilizzare il metodo cadenza 7, quindi chi l'ha in mano può portare avanti le condizioni. Notiamo come su Cagliari 5,75 fa 80, e questo 80 è riportato proprio isotopo sulla ruota di Bari e sulla ruota di Palermo. Guardate questa formazione, la somma di Cagliari, poi la troviamo in doppia isotopia tra le ruote di Bari e Palermo. Qui sta arrivando su, cadenza 0 non sbaglia mai, sta arrivando su queste due coppie, Baricale-Renapoli-Palermo, un 90 da panico. Chi non ha preso, chi non ha preso la previsione dei 4 ambi lo faccia, perché poi quando vengo sul canale a portarvi il cedolino vincente, poi vi mangiate le mani. Guardate Napoli-Palermo, l'80-20 in diagonale, zerato in diagonale e questo 80 viene ripreso sulla ruota di Bari. Quindi molta attenzione, mi raccomando. Per adesso saluto a tutti, mister Spangolotto.